Dal primo giugno è iniziata su tutto il territorio nazionale l'operazione Mare Sicuro che vede un incremento del numero dei controlli in mare a cura dei mezzi della Guardia Costiera anche per quanto riguarda il nostro territorio di giurisdizione che si estende su ben 5 comuni vogliamo ricordare parte del comune di Bagheria, Santa Flavia, Casteldaccia, Altavilla, Milicia e Trabbia e abbiamo incrementato il numero dei controlli mediante l'impiego della motopedetta Charlie Papa 524 e del nostro battello Golf Charlie Le attività che vi vedono impegnati sostanzialmente nella vostra giornata tipo in un weekend di punta? Sì, le segnalazioni che pervengono alla sala operativa sono molte in particolare un fenomeno che si ripete soprattutto tutti gli anni e la vicinanza dei mezzi nautici alla costa che qualche volta va ad interferire anche con l'attività di balneazione vogliamo ricordare a tutti gli utenti che comunque la convivenza tra le attività balneari e le attività diportistiche possono sicuramente convivere qualora si rispettino le ordinanze che ricordiamo prevedono l'attività di balneazione fino a 300 metri dalle coste sabbiose e la navigazione oltre i 300 metri qualora si parli di coste a picco abbiamo come possibilità di effettuare la balneazione fino a 100 metri dalla costa e l'attività di navigazione oltre i 100 metri C'è un altro problema, i cosiddetti acquascooter che stanno creando veramente un po' di allarme proprio a Capo Zafferano, nella Baia dei Francesi, insomma nelle zone più frequentate dei diportisti Sì, in effetti mi riferivo proprio a questa tipologia di segnalazione so che è un fenomeno che crea molto disturbo a chi svolge tranquillamente la propria attività di balneazione ed è proprio per questo che nei prossimi periodi ci impegneremo con tutte le nostre forze per quanto possibile a contrastare questo fenomeno Per quanto riguarda l'attività a terra abbiamo i controlli presso le strutture balneari principalmente per quanto concerne la regolare tenuta delle dotazioni di sicurezza da parte dell'assistente bagnante Le squadre di terra quotidianamente svolgono dei sopralluoghi presso le strutture balneari ma anche in prossimità delle spiagge libere per verificare che le attività vengano svolte in rispetto sia delle ordinanze locali sia delle ordinanze di sicurezza balneari Per quanto riguarda il fenomeno della musica altra Ricordiamo che le vie da seguire possono essere due principalmente la via dell'aspetto amministrativo e l'aspetto penale L'aspetto amministrativo purtroppo richiede per poter essere contestato strumentazioni tecniche che non sono in possesso della guardia costiera e soprattutto richiedono un controllo ripetuto nel tempo Per quanto riguarda invece l'aspetto penale rientriamo nell'ambito delle molestie e dei disturbi e quindi è perseguibile a querela di parte Ricordo da un punto di vista di sicurezza di controllare sempre le dotazioni di bordo che siano complete ed in piena efficienza che la quantità di carburante a bordo sia commisurata alla navigazione che sia la necessità di intraprendere e che le certificazioni di bordo siano in regolare corso di validità